Buongiorno, mi chiamo Nicola Ghidini, sono di Modena, faccio parte del Centro Orologico Europeo. Ho voluto fortemente visitare uno dei centri in cui opera l'amico Gabriele perché volevo vedere dal vivo la fattibilità, la semplicità e soprattutto constatare la riproducibilità della tecnica di impianto protesico idraulico per via infrapubblica. Il risultato finale di tutti gli interventi eseguiti è stato assolutamente eccellente e quindi vado a caso soddisfatto con un ottimo bagaglio di informazioni nuove acquisite e soprattutto vedrò l'impianto della protesi dalla parte opposta e mi sembra sicuramente migliore.